Il mondo sta cambiando. La responsabilità viene dalla consapevolezza. La consapevolezza viene dalla profonda riflessione. La riflessione profonda viene dal pensare. Quindi per favore. Pensa seriamente a ciò che sta accadendo alle persone in tutto il mondo. Assumersi la responsabilità di seguire le regole e le raccomandazioni che sono state stabilite. Perché quelle regole erano state stabilite, per non privarti della tua libertà. Ma invece, prenditi cura di te. Quindi per favore. Riguardati. Abbi cura di te, della tua società. Abbi cura del tuo paese. Perché così facendo, ti occuperai di... Il mondo intero. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.